Un increscioso episodio accaduto lunedì scorso al plesso scolastico Alessandro Manzoni dell'Istituto Comprensivo Giuseppe Russo di Giarre. Una lite tra bambini, come quelle che troppo di frequente avvengono nelle aule e nei corridoi delle nostre scuole, e che non è stata tempestivamente sedata, ed una segnalazione ai genitori, che non è mai avvenuta, per informare che il bimbo aveva il labbro tagliato. L'episodio si sarebbe verificato a cavallo della ricreazione, quindi intorno alle 11, ma la mamma è venuta a conoscenza dell'accaduto solamente alle 13, quando andando a prendere il bimbo all'uscita di scuola lo ha trovato con la maglietta sporca di sangue ed il labbro tumefatto. Lunedì come di consueto mi sono recata a scuola all'uscita a lunedì 30 per andare a prelevare mio figlio da scuola. Sono stato riscontrato mio figlio con evidenti macchie di sangue sulla felpa, una lesione al labbro molto profonda e mio figlio è stato di shock. Ovviamente allertatemi, sono scesa subito in istituto, all'istituto dove ho chiesto informazioni sull'accaduto e cosa fosse successo al mio figlio, se fosse stato anche medicato, non mi hanno saputo rispondere e quindi ho provveduto io stessa a portare il mio figlio al pronto soccorso. Il mio figlio è stato spinto da un compagnetto arrivando a sbattere su uno spigolo di un tavolo. Il bambino ha avuto una fuoriuscita enorme di sangue, ha pianto tantissimo e soprattutto il bambino ha perso anche il respiro. Adesso la famiglia ha deciso di procedere per le vie legali, considerato il rifiuto da parte dell'istituto di concedere il nulla osta affinché il bimbo possa cambiare scuola. Innanzitutto quello che è accaduto è un fatto veramente spiacevole che ci ha molto colpito e mi ha molto colpito non solo come professionista ma anche come mamma. Vista la gravità del fatto e visto che noi affidiamo i nostri figli ad un'istituzione così importante come la scuola, pretendiamo che di fronte ad un evento del genere come minimo la famiglia venga informata tempestivamente. Dato che si tratta di un minore abbiamo ritenuto opportuno presentare una denuncia e quindi far conoscere la volontà giudiziaria quanto è accaduto e pertanto ci sono delle indagini in corso volte ad accertare eventuali responsabilità ed omissioni da parte dell'istituto. Noi comunque siamo sereni e ci affidiamo alla magistratura.